Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qua è notte, vedrete questo video all'ora di pranzo, perché ho messo le live reaction di mattina Quanto mi voglio male passare la notte a fare sto contenuto, rivedermi gli highlights, fare la live reaction e rivedere la mia faccia di cacca che soffre maledettamente mentre guardo la partita, proprio mi voglio veramente male Tuttavia credo di fare una buona azione, perché secondo me la condivisione e la creazione di questo spazio credo possa aiutarvi a smaltire un po' di amarezza, cercare di analizzare sempre le problematiche e le criticità di questa Juventus e cercare di fare un po' un dialogo costruttivo Ieri ho fatto da volentieri da Pungiball, nel senso che tanti sono venuti e hanno commentato così a sproposito, anche con cazzate e poi sono andati via, ma ci sta, fa parte del gioco L'importante è che non si vada sempre oltre, qualcuno l'ho bannato, è cagato fuori, però per il resto credo che sia andato tutto liscio ho visto tanti commenti molto molto belli, molto intelligenti, molti condivisibili e altrimenti, ma è il mio pensiero non significa che quello che la pensa diversamente da me di cazzate, la pensa diversamente e ci sta, fa tutto parte del gioco Però voglio raccontarvi una scena che ho visto ieri in cui mi sono rivisto e vi racconto anche perché sono così tranquillo Ho visto un bambino che ha quasi lacrime ieri, che era con i genitori, aveva gli occhi lucidi, era vistosamente deluso, amareggiato aveva visto una partita allo stadio, piccolino, ha visto la Juventus uscire dalla Champions, perdere credo che sia una cosa poco bella, poco edificante, e sto bambino ha fatto la foto con me con Luca Tuselli perché ci conosceva e l'ho rincuorato, l'ho rincuorato e gli ho detto dai dai, non succede nulla, forza, anche io ne ho viste di partite e io credo che veramente, rivedendomi in quel bambino, di come era un bambino, a parte che io da piccolino pensavo che mai avrei visto la Juve che sarei morto prima senza vederlo allo stadio, però questi, quanto era un bambino molto tragico, ecco Poi vivevo le sconfitte della Juve con estremo dolore, piangevo all'infinito, ricordo una reazione dopo Juventus-Burussia Dortmund 3-1 dove è veramente una cosa inarrestabile, credo che quel tipo di reazioni mi abbia aiutato secondo me a creare una sorta di corazza contro queste sconfitte che sono veramente forti, ma riesco ad essere abbastanza lucido nell'analizzare la partita quindi lucido anche nel vivere, normalmente, non mi trascino quell'emozione negativa in altri contesti quindi ringrazio quel bambino che ero per aver vissuto quelle partite in maniera così pesante e adesso se sono così, probabilmente lo devo grazie a quel percorso quindi auguro a quel bambino da grande di poter vivere queste sconfitte pesanti come sto vivendo io questa sconfitta, con una certa tranquillità e con una certa lucidità Adesso passiamo all'analisi della partita perché ne ho una per tutte qua ragazzi innanzitutto partiamo dalla dimensione europea della Juventus in questi ultimi anni ora non prendiamoci per il culo, ci illudiamo sempre di essere una squadra di fortissimi e poi puntualmente quando arriva l'appuntamento degli ottavi di Champions per tre anni di fila siamo out, questa è la nostra dimensione ci siamo sottodimensionati ci siamo sottodimensionati ragazzi i risultati dicono questa roba qua e noi siamo questa roba qua cioè un anno può essere una cosa casuale un po' come per esempio il PSG quest'anno è uscito agli ottavi dopo aver fatto una finale, una semifinale per un bel percorso noi siamo usciti per tre volte di fila nello stesso punto cosa sta a significare? che noi arriviamo a quel punto e oltre non riusciamo ad andare quindi siamo in quella dimensione quindi ai piani alti dirigenziali qualche domanda dovrebbero porsele sulla creazione della squadra sui investimenti passati sui investimenti da fare sulle scelte dell'allenatore eccetera 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 tante riflessioni perché c'è stata poca lungimiranza e tanto navigare a vista e questa situazione ad oggi anche Allegri la paga tuttavia anche Allegri non è assolutamente sente da colpe perché io do i meriti ad Allegri sulla costruzione di una squadra e di un gruppo che sta sicuramente migliorando sotto tanti aspetti dalla questione attacco è in Italia quando ci siamo misurati con la prima forza europea siamo crollati ok lasciamo stare questa partita perché altrimenti anestetizziamo tutto il discorso la Juventus ha avuto un percorso di crescita finora nelle ultime 15 gare avete visto che sono tutti risultati utili tante vittorie abbiamo rosicchiato punticini ci stiamo consolidando nel quarto posto e quindi una crescita c'è stata tuttavia io credo che la Juventus debba lottare peraltro questo è un dato di fatto allo stato attuale della Rosa cioè la Juve può essere costruita per vincere lo Scudetto l'anno prossimo lasciamo stare le problematiche di mercato Ronaldo che è andato via eccetera benissimo Allegri che cosa ha fatto? ha ridato sicuramente un'identità identità è esagerato forse un'identità ha dato un pelo di struttura siamo un pelo più strutturati siamo più gruppo sappiamo gestire meglio certe situazioni sappiamo difenderci un pelo meglio subiamo meno stiamo segnando un pelo di più ci sono dei piccoli progressi però su tutta la linea ragazzi l'idea è sempre quella è un pelo speculativo ovvero ci difendiamo e giochiamo un pelo di ripartenza e così e così ora prendiamo copiamo e incolliamo questo tipo di modello di gioco al Villareal all'andata ci è andata bene perché il Villareal veniva a prenderci molto alti giocavano sulla nostra metà campo stabilmente col possesso palla eccetera 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 infatti nel video pregara io mi sono basato su quella partita analizzando le difficoltà che aveva il Villareal in quella partita e basandomi anche su come giocava quella partita Emery questa volta ha fatto l'Allegri e gliel'ha incartata l'Allegri gliel'ha incartata la grandissima e gli devo fare i complimenti perché ha fatto una genialata totale ha giocato sotto ritmo peggio di noi ha giocato bassi peggio di noi con le linee strettissime c'è stato un momento in cui erano nella linea di difensore erano in sette in sette in sette e sono ripartiti con due tre situazioni ce l'hanno messa nel posterio ok uso le parole sempre di le storie tese che sono meno meno pesanti come parolacce anche riferendomi a quel bambino di prima cui ho chiesto scusa per qualche parolacce quindi ecco meglio essere più tranquilli la cosa che manca a questa squadra sono delle trame offensive io ve l'ho detto già ragazzi quante volte ve l'ho detta questa cosa quante volte ve l'avrò detta mancano delle trame offensive quando segniamo in ripartenza è facile giocare in ripartenza nel senso hai delle scelte che sono abbastanza intuibili e facili il problema è quando c'è una difesa schierata che con le linee tutte strette tra centrocampo e difesa magari non ci passa neanche una pagliuzza quando ci sono squadre che si rintanano dietro tutti dietro la linea della palla e tu devi stanarli in qualche modo qual è il piano gara? quali sono le soluzioni che Allegri ha insegnato ai ragazzi? qual è lo schema? di questo c'è proprio zero e oggi ne abbiamo avuto la prova cioè oggi ieri perché per voi ieri per me è ancora ancora note quindi oggi ne abbiamo avuto la prova io vedendo allo stadio la Juventus ragazzi dicevo o crossiamo e la butta dentro Vlaovic e Morata ma ragazzi non ho visto altra soluzione cioè vedendo la Juventus girare palla lentamente molto lentamente con scarsi movimenti senza palla ho visto una squadra che ha dei meccanismi di gioco non non ha dei meccanismi di gioco è differente non ha non c'è movimento non c'è uno che viene incontro l'altro che si butta nello spazio uno che porta via l'uomo cioè di movimento senza palla ne ho visto zero e a me questa cosa ha preoccupato tanto devo essere sincero perché significa che siamo monospartitico monospartitici abbiamo un solo modo di giocare e quando trovi la squadra che invece si rintana dietro fai fatica e questa è una cosa ragazzi che va sicuramente migliorata Allegri non può ragionare come ragionava nella Juventus passata dove aveva tanti campioni che hanno vinto Coppa del Mondo che ha vinto le Champions League perché quelli erano giocatori pensanti abituati a un certo tipo di calcio e quindi se la sapevano sbrigare da soli quando c'era la situazione complicata quando c'era il momento della gara difficile avevano delle letture diverse da questi giovincelli questi sono giovani giovani tra parentesi nel senso che devono arrivare ancora alla maturetà ovvero De Ligt è un giocatore totale finito no non lo è ha dei margini enormi di miglioramento Vlaovic Morata forse sì però ci sono tanti giocatori che devono crescere e devono fare un contesto devono creare questo contesto squadra tu a quei giocatori non puoi lasciarli in balia di se stessi non puoi devi metterci in mano devi costruire qualcosa devi costruire uno straccio di trama di gioco perché altrimenti ragazzi che cosa succede che andiamo in difficoltà e non sappiamo che minchia fare è la squadra che ci lascia il pallino del gioco e ci dicono prendetevi il pallone giocate quanto vi pare noi rimaniamo così ecco quelli là non li staneremo mai noi possiamo rimanere venti giorni a girare palla tranquilli tranquilli non segniamo manco con le mani manco con le mani e questa secondo me la vera la vera colpa che allegri ed è una cosa che comunque ragazzi anche Pirlo che adesso oh meglio Pirlo anche Pirlo ahimè non era così bravo nel creare questa trama bravo Pirlo a costruire che cosa la prima costruzione di gioco della Juve di Pirlo mi piaceva tuttavia davanti avevamo sempre scarse possibilità e opzioni scarse trame di gioco non c'era una mazza e credo che un allenatore vero non deve dire ah negli ultimi 30 metri si inculano si arrangiano loro no negli ultimi 30 metri tu devi costruire qualcosa che consenta a chi ha determinati mezzi di tecnici individuali di poter segnare devi mettere i giocatori in condizioni di segnare se da soli non ci arrivano la mano dell'allenatore serve per queste cose e là Allegri non c'è ancora arrivato ha messo mano sicuramente in difesa e si vede ha messo sicuramente un po' di mano a centrocampo e si vede davanti no ed è sbagliato sottovaluta il problema sottovaluta il problema ed è stato battuto dalla sua stessa arma l'iper difensivismo l'organizzazione difensiva e la ripartenza punto cioè ci ha fregato così Emery con le stesse armi di Allegri quindi Emery ha battuto Allegri sì con un gioco imper difensivo sì noi come abbiamo dominato non abbiamo dominato noi abbiamo giochicchiato per 75 minuti abbiamo creato delle occasioni vere da gol anche nel primo tempo ma ahimè la Champions è fatta di dettagli le partite durano 90 minuti tutte banalità direte voi però se non la butti dentro non vinci anche questa è una banalità ma credo che sia la cosa più reale ragazzi è così nel primo tempo qualche occasione c'era stata nel secondo tempo non siamo entrati in campo loro cosa hanno fatto si sono difesi ancora di più e ce l'hanno messo nel posterio punto cioè è una partita facilissima da leggere tuttavia i problemi che ci sono ve li vedete quali sono Allegri non ci ha dato uno straccio di trama offensiva questi sono ragazzi che vanno assolutamente educati tatticamente nei movimenti senza palla qualche trama di gioco qualcosa se la devo inventare Allegri altrimenti quando troveremo la squadra che si arrocca in difesa noi ragazzi non facciamo nulla non caviamo il ragno dal buco è così è così questo è il primo aspetto il secondo aspetto che tengo a sottolineare ribadire e a mettere veramente una mattitona rossa con voto zero alla Juve il seguente dopo il primo gol non possiamo sfasciarci mentalmente così ehi c'è veramente una roba che non esiste non esiste cioè immaginatevi il Real Madrid col PSG prende il gol di Mbappé oh signori è finita rivedereci e grazie mancano 12 minuti Allegri si lamenta che la squadra si è sfasciata ma è il primo a essere sfasciato mentalmente lui in quel momento perché dopo la squadra ha un crollo psicologico e lo si vede visivamente ragazzi vedevamo i giocatori a parte De Ligt e Danilo e Scesni il resto erano tutti bianchi bianchi pallidi come questo foglio di carta ragazzi bianchi così bianchi la paura la mentalità che manca totalmente male 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 ma anche Allegri poi sbaglia perché cosa fa fa una cosa di puro impulso butta dentro tanti giocatori offensivi e leva dei giocatori difensivi primo cambio Rugani di Bala ci sta e andava anche anticipato perché la Juve dal 55esimo non stava dando più l'idea di una squadra pericolosa era molto statica poco creativa che non dava l'idea di poter sbloccare la partita quindi un cambio un pello anticipato ci poteva stare butto di Bala poi iniziate a buttare Bernardeschi Ken ha tolto tutti i giocatori e altri due contropiedi l'abbiamo presa ci siamo sbilanciati in una maniera allucinante ma allucinante ragazzi sbilanciati addio quindi manca lucidità da parte dell'allenatore l'allenatore ripeto deve sicuramente inventare qualcos'altro perché nel repertorio abbiamo poche canzoni da cantare serve anche qualche altra canzone importante per gli eventi importanti ecco e quindi che cosa servono trame offensive ragazzi serve un modo di giocare differente a questa squadra si ma Allegri non ve lo può dare oh il corso a coverciano l'ha fatto lui sa come si si insegna a giocare a pallone sa come una trama offensiva sa come si insegnano gli schemi offensivi non diciamo cretinate lui non può adagiarsi sul fatto che ah io alleno così gestisco non gestisci una mazza gestisci i campioni ma i campioni attualmente non li hai ai giovani che devono maturare quindi devi serve un altro approccio serve un altro approccio cioè se vai a insegnare al liceo insegna in un modo non puoi insegnare come insegna al liceo con lo stesso metodo alle scuole medie o alle scuole elementari no perché ci sono degli step differenti di pensiero è uguale cioè è uguale se Allegri era abituato a insegnare all'università con gente dell'università bene benissimo mi fa piace bravo però se tu vuoi portare avanti quei ragazzi a livello dell'università è in mano gente che è delle medie tu devi insegnargli prima a questi ragazzi qualcosa in maniera differente non puoi avere quell'approccio all'università con ragazzini delle medie altrimenti ci capiamo un cazzo ed è questa la situazione cioè io ho fatto un paragone terra a terra per farvi capire un po' come la penso io per essere ancora più chiaro e diretto più chiaro e diretto poi ragazzi per la partita che vi devo dire è facile da leggere primo tempo grandi occasioni non la buttiamo dentro secondo tempo non siamo entrati quasi in campo ci fanno un gol caliamo mentalmente ci abbiamo visto una partita a due facce una partita che va a mostrare i pregi la crescita anche che c'è stata piano piano della Juventus seppur lenta seppur a volte macchinosa però d'occasione le abbiamo create secondo tempo abbiamo visto il peggio del repertorio della Juventus una Juve passiva con poche idee molto lenta e che poi becca anche il gol è la Juve di quest'anno ragazzi non è nulla di strano noi ci sono scesi gli alieni e gli ufo punto usciamo a casa contro un Villareal che è una squadra a mio parere modesta prima di standard Champions ma un'ottima squadra perché sa giocare bene al calcio nonostante non abbia individualità di spicco enorme sa giocare bene al calcio hanno meritato di passare quindi complimenti a loro complimenti a loro per quanto riguarda ragazzi singoli non mi va di gettare i croci contro nessuno perché se sento qualcuno dire colpa di Rugani vado là e lo strozzo perché Rugani fino a quel momento là dell'errore è stato il miglior in campo poi c'è un crollo di mentalità e più una sconfitta da collettivo che da individualità faccio fatica anche a fare delle pagelle qua va valutata la prestazione di squadra la prestazione dell'allenatore e il contesto poi ci sono due voti differenti se proprio vogliamo andare primo tempo secondo tempo e facciamo una media non sarebbe un cazzo secondo me ragazzi cercare di tirare fuori delle pagelle dalla prestazione di ciascuno o di buttare le croci su uno e non sull'altro perché Morata sbaglia un gol già fatto perché Vlaovic prende la traversa e quelli non sono errori vogliamo far pesare tutto a Daniele Rugani e sapete benissimo che io non sia un estimatore di Daniele Rugani eppure ragazzi ha poche colpe la cosa che io voglio capire adesso per il futuro con Allegri dove ci porterà Allegri io lo voglio capire capisco i progressi della squadra capisco i miglioramenti eccetera ma sono insufficienti per quel che è la Juventus per cosa rappresenta la Juventus ad oggi è ancora insufficiente ad oggi Allegri è ancora insufficiente ragazzi non prendiamoci in giro abbiamo preso la Supercoppa siamo fuori dalla Champions siamo quarti in campionato a voi basta preme la campagna europea è fallimentare non mi nascondo tanto chissà adesso adesso verrà etichettato come anti-Allegriano giudico sicuramente l'operato di Allegri è insufficiente non mi piace come gioco alla Juve di Allegri l'ho già detto e ribadito diverse volte niente c'è delusione amarezza e speriamo che il tempo magari altre vittorie no portino un pochettino a rasserenarmi ma la vedo grigia la vedo grigia ragazzi quest'anno non sono così fiducioso sono veramente sembra che siamo in un limbo da cui non riusciamo ad uscire siamo entrati veramente nelle sabbie mobili nelle sabbie mobili siamo nelle sabbie mobili ha in questo momento questa sensazione ma ripeto probabilmente vi ricordate l'autodifesa dalla situazione eccetera questo momento di stagnazione mentale nel non vedere una via d'uscita è probabilmente legato al fatto che rimugino tanto sulla situazione attuale sulle problematiche che abbiamo ora in corso e non riesco a vederne soluzioni facili soluzioni che portino subito all'immediato dei risultati io non ne vedo serve lavoro tanto lavoro quello senz'altro però anche per i risultati serve tempo però è importante già vedere delle direzioni speriamo di vedere dal più presto scusate per questo pippone di 20 minuti ragazzi ma tanti tanti pensieri in movimento un abbraccio a voi e sempre fino alla fine grazie a tutti